Salve a tutti ragazzi, io sono Legomaster e oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video. Oggi vedremo come completare le missioni viola della settimana 5 e andando in map a vedere come farle e dove farle. Direi che ci vediamo in partita. La prima missione si intitola Distruggi attrezzature informatiche alle stazioni satellitari o a podere pannocchia. Direi che ci vediamo in partita. Ci basterà atterrare una delle stazioni satellitari e distruggere questi tavoli qua. E avete completato semplicemente la missione. La seconda missione si intitola Infliggi danni alle guardie OI. Andiamo in partita. La missione ci basterà andare a podere pannocchia e fare dei danni alla guardia OI. In questo modo. E poi vi darà la missione. La terza missione si intitola Elimina gli intrusi. Quando le città con il nome in viola, in questo caso da me c'è Foschi e Fumaioli, e sparare alle navicelle e aspettare che l'intruso esca dalle navicelle e voi lo uccidete poi. Adesso comunque vi faccio vedere. Ok, vi basterà uccidere... Ah, è nera. Uccidere al lotto. Ok. Farlo scendere. E... Ucciderlo. E avrete completato la missione. Iscrivetevi anche al canale perché a YouTube ho scoperto che più dell'80% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale, quindi attivate anche la campanella. La prossima missione si chiama Infliggi danni con armi OI o aliene. Andiamo in partita. Per fare questa missione, dopo aver preso un'arma aliena, vi basterà andare da un NPC o qualcuno e fargli gli danni in questo modo, e fino a quando non sarete arrivati a 500. La missione si intitola Saccheggio alle consegne di rifornimenti. Per fare questa missione vi basterà avvicinarvi ad un airdrop e aprirlo. Vi basterà solo fare questo e avrete completato la missione. La prossima missione si chiama Danneggio un disco volante pilotato da qualcuno. Allora, per fare questa missione vi basterà prendere ovviamente un'arma da lontano e sparare al disco volante. Potrebbe essere o pilotato da un intruso, che in questo caso, vabbè, è morto, oppure anche da un player normale. E avrete completato la missione, dovrete infliggere 800 danni. L'ultima missione si chiama Apri un forziere OI in una stazione satellitare o a podere pannocchia. Per fare questa missione vi basterà andare a atterrare in una delle stazioni satellitari sparse per la mappa e cercare queste casse e aprirle. E vi darà la missione. In questo video abbiamo visto come completare tutte le missioni per livellare in questa stagione 7, capitolo 2 di Fortnite. Quindi io ringrazio Domenico per avermi aiutato a fare questa missione. E quindi iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e a tutti gli altri video. Attivate anche la campanella per non perdervi nessun video e nessuna live. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Ciao!